Ciao a tutti, oggi faremo la reazione alla reazione delle tendenze di YouTube Italia finite male Cominciamo Bello fico con un swag Bello fico contro Alessandro Mussolini E non capisco come sta gente che è pure in politica Non capisco che quello è un troll Come superare un'interrogazione di Pantellas 21 ore, 500.000 visualizzazioni Ci sta che sta in tendenza, ok? Però scendendo c'è di nuovo non so chi Ok, questo ha ricaricato la canzone Quindi sto tipo Fabio Rovazzi Ha ricaricato il teaser del video Ci ha fatto 100.000 visualizzazioni E è in tendenza Che mi vuoi comunicare YouTube? Che mi vuoi comunicare? Che è giusto che rubo i video e li ricarico? Beth, Santa, Tax, Freaky Family, Annabelle, Victoria, Daddy, Toy, Freaks, Hidden Egg 13 milioni di visualizzazioni Che non è neanche... Allora Ma come puoi la sentire Vedere un video del seno Una bambina con Babbo Natale Che sembra un mostro Ma ti sembra? Allora Andiamo a vedere Babbo Natale che attacca La nonna la usata Che schifo Poi c'è anche Babbo Natale Ma che schifo Che cosa sta guardando? Ma non fa paura neanche un po' sta cosa Ma poi è sto tizio E il Babbo Natale Ma ti sei La carta Ovviamente è sparito lui Perché è una mazza di plastica poi? Che cosa? Cosa ho visto ragazzi? 13 milioni e mezzo di visualizzazioni Stacosa Oh I treni più pericolosi del pianeta Cubi Dai Cubi A chi l'avrei preso stavolta il video? Cubi Cubi Io non posso fare ogni video Su ste cose Dai Ma avevo proprio messo fuoco e fulmini E ci siamo arrivati ragazzi Matrimonio trenino finisce male 25 Trenino Trenino? Veramente? Ti sembra il caso? Ok Pasimo in tendenza 64 mi piace 154 non mi piace Ok C'è chiaramente gente che sta facendo un trenino Ma E il ragazzo O l'uomo Non sa Ma quello è ubriaco Ma Ci sembra di andare a un matrimonio a ubriacarti Ma perché? Siamo perché A un matrimonio se vai con la camicia Che sta facendo? Ma cosa ha fatto? Probabilmente Lesso ubriaco Cioè Già È quello che ha detto Non è stato avanzato comatoso Sta facendo un trenino Però ragazzi Guardate il movimento anche a bacino Sì Ma Io sono d'accordo con lui Ma c***o Allora Un salto Non è un contenuto Fa cagare Perché questo video dovrebbe essere Allora Ok Ha preso la ragazza Ha preso la ragazza Scappa lei Fuggi Mettiti a riparo Ma No veramente Questo ubriaco L'ho sentito Forse gli è piaciuto Perché guardate Guardate questo frame Dopo la botta Lui Eh Volevi Come un mamba Aspetta il momento E poi se ne va ragazzi Ciao Hai fatto la cosa Perché questo video è in tendenza Perché ragazzi Riuscite a scrivermelo sotto nei commenti Il più fantasioso Veramente Lo leggiamo Nelle prossime puntate Lì Quindi mi stai dicendo Che è giusto Prendere i video dagli altri È giusto prendere i video dalla televisione Ricargarli Così vado in tendenza Ed è giusto Prendere i contenuti dagli altri E parlarci sopra Ho trovato Ronaldo Sif Sì vabbè Dexter Clickbait proprio Mi vuoi fare credere Che hai trovato Cristiano Ronaldo Sif 96 Che sei youtuber fa cagare È colpa di questi youtuber falsi Che fanno i clickbait Che dicono No 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 È pazzo Ha distrutto la sedia Perché No no Ragazzi No non è vero Deve essere sicuramente un video rubato Dai Dexter A farci vedere che sei falso Sei falso Dexter Sei falso Fai schifo Dexter Ma sei falso tu Ho fatto tre giorni fa Quando 12 partite 15 gol È lui ragazzi Lo sposto Ecco Il mio Vero Vedi Vedi Non è tutto un video Quindi No lo scrive di clickbait Clickbait Perché c'è questo ocelot life Minecraft maledizione 2 milioni di visualizzazioni Ok ma Non è Perché Ti ringrazio Per imparare l'inglese Ma non c'è Frozen Elsa Contro Due facce di Joker Contro Orange Spider-Man Contro Joker Boy E Scream Real life Superhero movie Quasi sei milioni di visualizzazioni Video non in italiano E la mia barra E la mia barra per il clickbait E altissima Cioè ragazzi Sentite stavore ragazzi Cioè puzza di contenuto Di qualità Me lo devo vedere Stato Molto ridere Guarda Ma cos'è Che cosa sto guardando in questo momento Perché Contenuto di qualità Ok Cioè Elsa che ha fatto la pasta Molto brava Molto brava a cucinare Elsa Molto Ma cosa Cosa Ma che sta facendo Ma ho messo Mi ho messo la glassa nella pasta Eh sì Elsa Ti dovevi tagliare la barba Che cazzo ragazzi Che cazzo sto guardando Allora ve lo dico io Siamo nel 2016 Allora Allora Ma insomma Non si dico le parole Ok Capito 41esimo in tendenza Su Youtube Italia Ovviamente Ma che cosa sto vedendo Nel 2016 in tendenza Scendo Scendo Cagliari Ex Apre Dubai Planet Ora L'hanno visto In 23 ore 13 persone Ma lui Gli frega Di uomo Ma guarda lui Che ragazzi Che sta là Che non c'ha voglia Contenuto di qualità Piace a 9 persone Due commenti Ma perché Questo video È 47esimo In tendenza Me lo volete spiegare Ragazzi Me lo spiegate Per favore Quindi ragazzi Queste erano Le tendenze Di Youtube Italia Il 3 Dicembre 2016 Raccomando Superiamo i 20.000 Mi piace Per un prossimo episodio Di Le tendenze Su Youtube Italia Trovate Una motivazione Perché Quei video Dovrebbero stare In tendenza In Italia E fatemi sapere Se questa nuova serie Vi può piacere Un saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ok Ciao a tutti Il video È finito qua Si vediamo domani Vi ricordo Che ogni giorno Alle